10.000 contenziosi tra cittadini e operatori telefonici gestiti per un totale di circa 3 milioni di euro restituiti ai cittadini. Sono i dati 2019 del Comitato regionale per le comunicazioni, Corecom, presentati in conferenza stampa Palazzo Lascaris. I contenziosi tra cittadini e operatori sono aumentati del 40% in due anni, mentre le restituzioni sono avvenute tramite conciliazioni primo grado e definizioni secondo grado. L'87% delle domande in fase di conciliazione si è concluso con un accordo. Abbiamo raggiunto quota quasi 10.000 conciliazioni e questo è un dato sicuramente eccezionale. Eccezionale perché da un lato rendiamo giustizia a un numero maggiore di cittadini che chiedono l'intervento, ma soprattutto riusciamo a essere più efficaci anche territorialmente. Il nostro obiettivo era quello di crescere molto all'interno delle province e questo è il risultato che abbiamo raggiunto, perché abbiamo stimato nel 2019, una crescita di circa il 20% delle tentativi di conciliazione che arrivano da ciascuna provincia. Tutta la documentazione è disponibile online. Gli utenti possono accedere al servizio tramite la piattaforma Concilia Web, canale unico per presentare le istanze e gestire le controversie. Durante il contenzioso è possibile, nel caso venga sospesa la linea telefonica, richiederne la riattivazione immediata. Nel 2019 sono pervenute al Corecom 931 domande. Nel 60% dei casi la riattivazione è avvenuta spontaneamente in un periodo inferiore ai 10 giorni. Nella restante 40% è stato emesso il provvedimento temporaneo di riattivazione. Direi che il Corecom Piemonte si caratterizza come uno dei Corecom che è riuscito ad ottenere i migliori risultati in termini di risoluzione delle controversie. Anche attraverso l'attivazione lo strumento del Concilia Web che è stato realizzato appunto dall'Autorità per le Gananze e le Comunicazioni. E saranno 48 le scuole piemontesi coinvolte nella prima ricerca sul campo per studiare in modo approfondito il fenomeno del cyberbullismo tra i minori. La ricerca, voluta dal Corecom Piemonte, fa parte delle iniziative previste dal protocollo firmato dalle principali istituzioni regionali che impegna i soggetti a mettere in rete tutte le loro competenze per organizzare iniziative pubbliche, attività di monitoraggio, attività di approfondimento e ricerca.